GULDAN Contro Jaina L'hai voluto tu La tua anima sarà mia Rai Rai Brèèèè Grèèèè Mè Salve. 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 Tornalo fuori e combatti! Ti spiace se scelgo l'egg sigma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Colpite forte, velocemente. E qui lo sarebbe un'arma! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stala! Sparca! Nutrimento! 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 Quante possibilità Serve Rispondete alla chiamata 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 Il mio scudo per Argus è la breccia! La morte è il mio pane quotidiano. Nella breccia! Ti vedo! Bella giocare! La morte è il mio pane quotidiano. La morte è il mio pane quotidiano. Ah, affare in vista! Ah, scusate! La morte è il mio pane quotidiano. 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 Ha le migliori offerte sul mercato! Ai vieni, stavolta